In un banco macelleria il pollo lo troviamo o intero o sezionato tra coscia, petto e alie. In questo video andiamo a vedere come noi della macelleria del Borgaccio lavoriamo il pollo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto e al prossimo video. Ciao.